La vita nelle carceri deve cambiare. Il ministro della giustizia Cancellieri cerca di salvare l'Italia dalla multa che rischia di pagare, dopo la condanna dell'Unione Europea, per il sovraffollamento e le condizioni disumane nelle carceri. Una bocciatura, dice il guardasigilli, che ci ha spinto con le spalle al muro. Ecco allora il piano del governo già presentato tre settimane fa al Consiglio d'Europa e alla Corte di Giustizia di Strasburgo. È la prima uscita pubblica del ministro della giustizia dopo il voto in Parlamento di mercoledì scorso per il caso Ligresti, un voto con il quale è stata respinta fra mille fibrillazioni politiche la mozione di sfiducia che 5 Stelle avevano proposto contro i guardasigilli, un piano quello per le carceri che ruota su tre punti. Primo, introdurre la figura nazionale del garante che già esiste in altri paesi, ma in Italia è presente solo a Roma, Firenze e Bollate. Secondo, ricorrere a pene alternative per contrastare il sovraffollamento. Terzo, migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari. Quello che mi ha fatto veramente male, dice la Cancellieri, è sapere che i detenuti hanno solo due ore di libertà al giorno, indipendentemente dal reato commesso. Ad aprile, aggiunge il ministro, l'80% dei carcerati avrà otto ore di libertà al giorno per socializzare e per lavorare. Radicale dovrà essere l'intervento sulle strutture carcerarie. Molte risalgono al 1800, spiega il ministro, ormai sono inadeguate, dai costi di gestione troppo elevati. Entro sei mesi, aggiunge il guardasigilli, avremo 4.500 posti in più, 12.000 entro l'aprile del 2015. Cardone, Gennaro, 50 anni, suicida lattina. Morata, 25 anni, suicida a Torino. Mentre parla la Cancellieri all'esterno, un gruppo di giovani del PD la contesta, leggono i nomi dei 26 detenuti che si sono suicidati da quando è stato nominato il ministro. Vorremmo vedere, dicono i tabolati delle telefonate fatte ai loro familiari.